Ciao, qui è Joe di Seduzione Attrazione e nel video di oggi rispondo ad una delle vostre domande che ci sono arrivate. Una domanda riguardante l'approccio in discoteca. La musica è veramente molto alta, per farmi capire, devo avvicinarmi al suo orecchio e urlare a squarciagola e tanto. E qualche volta non capiscono. Qualche consiglio? Francamente ho una larga, larga esperienza per quanto riguarda l'approcciare in discoteca e quello che ti posso dire è che eccezione fatta per locali molto particolari mi sembra francamente molto improbabile che le ragazze non ti capiscono. Quindi, quella che è la mia visione relativamente a questa cosa è che su base statistica, statistica quantomeno, è molto più facile che il problema non sia il locale ma in realtà sia il tuo volume quando parli con la ragazza, volume di voce, ovviamente. Nel senso che, per mia esperienza, è molto difficile trovare locali dove non è semplice farsi capire. O meglio, se non è semplice non è fattibile, perlomeno. Mettiamo le cose così come stanno. Tieni presente che il fatto che tu pensi di star parlando, o urlando, quello che è ad alta voce, non significa veramente che lo stai facendo, perché a volte la nostra testa ci manda dei segnali che possono un po' confondere e quando fai un qualcosa che può farti vergognare, tendi istintivamente ad abbassare la voce, anche se non te ne rendi conto. Quindi, non è detto che volume della voce proiettato verso l'esterno contro volume della voce che tu senti nella tua testa corrispondano, ok? Quindi, il mio consiglio è questo. Cambia locale e vedi se questo problema sussiste. Quello che noterai, in generale, è che nella stragrande maggioranza dei locali tu devi essere in grado di comunicare con la ragazza. Perché sì, è vero che i locali hanno musica alta, di modo che tu consumi più alcol, perché è un ambiente di festa, eccetera, eccetera. Però, comunque nei locali la gente parla, parliamoci chiaro. E per finire, tieni presente che, in realtà, tu vuoi arrivare ad un livello di subcomunicazione dove ti sporgi sufficientemente all'indietro quando tu approcci la ragazza, per esempio, e questo farà sì fondamentalmente che non sarai tu a doverti sporgere verso di lei, quindi dando via parte del tuo valore, ma sarà la ragazza a sporgersi verso di te. E questo creerà subito una dinamica per cui sembra a un osservatore esterno che sia lei ad avere minor valore rispetto a te, e questo è il tipo di dinamica che noi vogliamo creare in situazioni come la notte, come il giorno, a un appuntamento, eccetera, eccetera, eccetera. Però, riassumendo, primo, cerca di renderti conto se il problema è veramente la tua voce o è il locale. Secondo, prova un altro locale e terzo, modifica quello che è il tuo linguaggio del corpo nell'approccio con la ragazza, nel senso che se tu le fai percepire chiaramente, rivolgendoti a lei, che ti stai rivolgendo a lei, sei sorridente, ovviamente ti sporgi all'indietro, mentre le parli, e magari le fai anche così, molto probabilmente sarà lei, se tu fai tutte queste cose in maniera corretta, guardando da dritto negli occhi, a sporgersi verso di te, quindi ti trovi anche in una situazione che è tatticamente preferibile. Ok, prima di andare ti ricordo di iscriverti al canale e se vuoi diventare un maestro della conversazione, ho creato una serie di video gratuiti proprio su questo argomento. In questi video vedrai vari filmati di approcci di ragazze dove uso le tecniche di conversazione e poi te le spiego passo passo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.